Eccoci, siamo con Giovanni Matera per un altro incontro, stiamo realizzando una serie di incontri che si occupano di marketing, di formazione. Giovanni Matera è un imprenditore titolare di Matera di Arrendamenti, ma un esperto di marketing, autore di numerose pubblicazioni, di corsi di formazione. E diciamo che quella che io ritengo in questi incontri un po' la mia stella polare, come dire, non voglio enfatizzare, ma un po' il mio Vangelo proprio per interpretare meglio il pensiero di Matera, è rappresentato dalla Cassetta degli attrezzi. Il suo libro, la sua pubblicazione, che è davvero una pietra miliare, ecco, un punto di riferimento. Ho visto non solo un esperto di marketing, però devo dire che proprio per la semplicità, la linearità con cui trasmette i messaggi, ci sembra proprio quasi la Bibbia della comunicazione in ambito di marketing. E visto che forse anche qualcuno potrà dirmi esageratamente, vabbè, forse ho anche esagerato, ho usato un tono un po' evangelico. Hai creato l'atmosfera, dai! E così, forse inconsapevolmente è nata questo spirito un po' evangelico, perché uno dei capitoli, la regola d'oro, beh, ha molto di evangelico, perché non fare, leggiamo nel capitolo, non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Fai agli altri quello che vuoi sia fatto a te. Offri tutto ciò che ti senti di offrire senza aspettarti nulla in cambio. Spesso hai come l'impressione di dare tanto e di non ricevere nulla, ma non è così. Il conto corrente dell'universo funziona alla grande. Beh, sono dei messaggi, a mio avviso, innanzitutto di una matrice cristiana, ma al di là dell'aspetto religioso che qui c'entra poco, c'è proprio un rispetto dell'altro, in queste parole, in questo concetto di regola d'oro. Chiaramente questo concetto va visto sempre nell'ambito del marketing, della conduzione aziendale. Quindi non a caso ci sono due frasi. Prima hai letto non fare agli altri quello che non vuoi che venga fatta a te. Beh, questo fa riferimento a un concetto che abbiamo già citato negli altri video, cioè il concetto di causatività. Cioè non fare del male agli altri se vuoi che non ti venga fatta a te. Però questo è un concetto statico, mentre la Chiesa Cattolica dovrebbe un po' migliorare questo concetto. Io ho già parlato anche con amici, predico, il vescovo, loro sono pure d'accordo su questo. Invece il concetto quello giusto è causativo. Fai agli altri quello che vuoi che venga fatta a te. Cioè tu fai prima, devi dare prima qualcosa. In ambito propositivo. Perché quando noi facciamo, automaticamente l'altro farà qualcosa per te. E qua che poi c'è un po' di scetticismo poi da parte di alcuni, dice ma io ho fatto tanto per quell'amiche, ma io ho fatto tanto per quell'azienda. Però poi non sono stato manco un grazie ho ricevuto. Però non è così. Perché nell'ambiente tu comunque hai fatto delle cose. Il grazie non ti arriverà da quell'amico, da quel parente, da quell'imprenditore o da quella persona che ti ha aiutato. Però ti arriverà un grazie da qualche altra parte, un ringraziamento da un'altra parte. Ecco perché il conto corrente universale è in ascolto. E' come se comunque tutti hanno visto il modo tuo di fare, cioè il tuo atteggiamento, il modo di comportarti nell'esercizio quotidiano di tutti i giorni, è sotto gli occhi di tutti. E' come se nell'universo l'aria è come un conduttore. Pure gli altri hanno visto il tuo modo di fare e un domani ti arriverà un grazie a una persona che magari non ti aspettavi. Pure gli altri hanno visto il tuo modo di fare e un'altra parte.